Ciao, io sono Luca Ranzani e questo è il miglior modo per farvi capire chi sono. Sono un intervistatore e produttore musicale. Per chi non mi conosce, questo è un buon modo per conoscermi. Ciao amici di Luca Ranzani. Ciao amici di Luca Ranzani. Ciao amici di Luca Ranzani. Ciao amici di Luca Ranzani TV, oggi siamo qui con Alep. Bella. Ok, chi è Alep? Allora, Alep, che è il mio nome d'arte, nasce da un concetto, da un acronimo, che è Amore, Litigie e Pensieri. Ah, ok. Oltre ad essere anche molto simile al mio nome, che è appunto Alessandro. Quindi c'è un po' questo gioco di parole, che sono tre parole che rappresentano molto le tematiche dei miei pezzi, tutto quello di cui parlo e un po' il mio mondo a livello proprio emotivo. Quindi Amore, Litigie e Pensieri, che secondo me è un po' tutto, comprende il 100% di quello che dico nei pezzi, di quello di cui parlo. Che è anche il nome del mio primo EP, uscito con Tracy, a gennaio. Che tal d'avete giocato una cosa di immagine fighissima, tra l'altro, secondo me. Ho curato io tutta l'immagine dell'EP, quindi grazie mille. Perché poi parleremo anche di quello che fai al di fuori. Sì, sì, certo, certo. Quindi insomma, Alep è un ragazzo che ha trovato nella musica la sua valvola di sfogo, quindi la usa più come terapia che come modo per arrivare a qualcosa di più, ma proprio come modo per buttare fuori tutto quello che tengo dentro. Scrivo ormai da 4-5 anni, sono partito prettamente con la scrittura, poi pian piano ho aggiunto anche varie melodie, perché inizialmente facevo più uno stile rap, hip-hop, e poi pian piano si sta evolvendo in una sorta di hip-hop 2.0, con influenze elettroniche e varie cose nuove, insomma. Quindi questo è principalmente... Raccontaci un po' come avviene il tuo processo di scrittura. Quello che mi piace fare è partire da un concetto. Quindi prima penso a quello che voglio trasmettere in quel determinato momento. Molte volte ho già una produzione di Tracy, che è il mio produttore, oppure anche magari su dei tight beat di YouTube. Parto dall'idea, inizio, vado molto a sentimento e butto proprio fuori tutto quello che mi esce a sentimento senza darmi dei limiti o senza impormi regole. Poi pian piano, in un secondo momento di lucidità, vado magari a profizionare esatto i dettagli, le strofe, ad aggiustare delle piccole cose che magari all'inizio non avevo notato. E pian piano così poi si forma il brano. Dopo vengo in studio e da lì diamo un po' la direzione del pezzo, capiamo la produzione verso che direzione può andare, capiamo un po' lo stile e questo è principalmente... Però si parto sempre da un'emozione che ho dentro. Che è bellissimo, che secondo me la naturalezza di un brano è proprio quella, che se no... Sì, sì, sì. Non si può fare un brano. Penso anch'io. Perché adesso va molto di moda magari fare session con dieci persone in uno studio a Milano in cui si cerca sempre la top line perfetta e la parolina giusta, però secondo me in quelle session che sono fantastiche manca l'emozione. Sì, esatto. Che è una cosa che... Assolutamente una cosa che manca ultimamente in tutta la scena. Cioè, diciamo, soprattutto in questo. Perché si tende più a lavorare sul personaggio e magari concentrare tutto fin troppo sul personaggio che sul brano, sì, esatto. A quale brano dei tuoi sei più affezionato? E perché? Allora, è un inedito che si chiama Lieto Fine, uscirà molto presto. E ci sono affezionato perché è uscito in un momento di mio delirio totale in cui stavo uscendo dalla mia ultima relazione e una sera avevo appena finito di litigare appunto con questa ragazza ed ero qua in studio. Fede ha percepito questa mia tensione, ha iniziato a imbastire, diciamo, una produzione e io sono andato al microfono. Sì, ma molti dei nostri pezzi escono così. Molte volte in studio il processo è questo. Io sono andato al microfono, ho buttato fuori tutto quello che avevo ed è uscito questo pezzo che tuttora, secondo me e secondo tutti i ragazzi che lavorano con me, è il mio pezzo più forte in assoluto che tra l'altro abbiamo anche proposto a varie situazioni interessanti di cui adesso non posso ancora parlare pubblicamente, comunque poi ti spiego. E quindi questo è un pezzo che tuttora mi emoziona tantissimo poi te lo faccio anche sentire dopo l'intervista che secondo me è veramente forte e ha un messaggio potente che è quello del... Mi ha colpito sta cosa che è fighissima che hai detto cioè che veramente eravate qua in studio e si è proprio sentita che è bellissima, tu hai sentito il pezzo lui ha creato la produzione bellissima questa cosa è una vibe saltissima Così sono usciti veramente tanti pezzi la metà di tutti i pezzi che stiamo facendo escono in questo modo qua Bellissima, naturalissima Grazie A noi puntiamo tanto sui rapporti umani in tutto quello che facciamo quindi puntiamo tanto sull'empatia tra di noi Alep Sì? Se dovessi tornare indietro dal tè del passato Ok Che cosa gli vorresti dire? Che penso che sia una cosa che vorremmo provare a fare tutti in realtà Quanto ho passato? Cinque o sei anni Ok, quindi più o meno quando hai iniziato a scrivere Sì, esatto Guarda, gli direi una cosa Mi è venuta la pelle d'oca pensaci Gli direi una cosa importante che è poi quello che ho capito con gli anni cioè che tutte le esperienze che sul momento sembrano le più brutte, le più dolorose, le più intense in realtà sono quelle che ti fanno crescere di più che mi hanno fatto crescere di più e che credo che in generale facciano crescere di più e che insegnino in generale di più che molte volte devo vivere più intensamente le esperienze brutte piuttosto di cercare di evitarle o di... non dico sottovalutarle comunque cercare di... non mi viene il termine No, ho capito benissimo cosa vuol dire Non cercare di demonizzarle, ecco ma viverle intensamente come si vive la felicità e tutte le cose belle quindi di vivermi intensamente la tristezza quanto la felicità Sì, sì, farne una... riuscire a farne una... Un punto di forza Un punto di forza, non un punto di debolezza Esattamente Perché molte volte... Che è una parte molto difficile per l'essere umano in generale Esatto, perché molte volte mi rendo conto anche di tanti ragazzi amici o anche ragazzi che vedo in giro che vivono le esperienze brutte come qualcosa che va evitato o comunque visto come qualcosa che non dovrebbe essere vissuto invece no è proprio quello che va vissuto e che ti cresce che ti forma secondo me ma poi credo proprio che sia giusto sbagliare per poi capire che non si possa mai far tutto giusto perché poi se si giochi a far tutto giusto la tua vita è un test non è più una vita, capito? Cioè per me la vita è anche imperfezione anche sbagli anche pentimento e tutte queste cose quindi per me è così non rifare niente in modo diverso rifare tutto Quando il tuo personaggio rispecchia la tua musica? Ero domanda tosta perché io non credo di avere un personaggio definito nel senso che molti magari mi dicono la cosa bella tua è che la persona e il personaggio coincidono da esterno da esterno ribadisco che ci siamo conosciuti ma ce la fa sì sì confermo è vero ti devo fare i complimenti perché è vero grazie non è cioè si vede che sei naturale io sono così non so come spiegarti sono così nella musica e ascoltando i tuoi brani dopo ascolterei anche quelli di cui ti parlavo prima molti ascoltando la mia musica soprattutto i pezzi più sentimentali mi dicono questo sei tu però io non è che sto facendo un personaggio io sono me stesso semplicemente sensibile con le mie fragilità con le mie idee e comunque del tutto nel senso che quello che sono io poi si trasmetta al 100% nella mia musica e anzi trovo difficile non riuscire a trasmettere perché molti poi lo capiscono anche dei pezzi mi dicono questo sei più tu questo sei meno tu in questo sento più veramente la tua essenza in questo magari un po' meno perché dipende anche da quanto scrivo in modo sincero a volte magari appunto ho provato a fare testi per altri tolto il fatto che io scrivo anche per altri ogni tanto ho fatto anche esperienze d'autore è interessante devo ancora approfondire bene però ok e appunto dimmi ti dico con il lessico e la conoscenza che hai pensaci su è un consiglio scrivi un libro perché c'hai grazie c'è proprio un grazie con delle good vibes grazie è un complimento bellissimo no no veramente grazie hai proprio molto da esporre da smettere grazie conta che io ho iniziato a scrivere quando avevo quattro anni cioè quando ho iniziato a scrivere ho iniziato anche a scrivere racconti quindi io ho iniziato scrivendo racconti fantasy ok ispirati a quello che alla fine a quello che faccio un po' tuttora un po' meno in modo diverso però scrivevo racconti fantasy di quello che vivevo ma con una chiave di lettura diversa quindi tipo inserivo tutti i miei amici in questo racconto gli davo altri nomi e li facevo vivere magari il ragazzo che mi bullizzava era il cattivo nel racconto bellissimo e invece il mio miglior amico era l'aiutante del protagonista per dire bellissimo quindi scrivevo così a quattro anni poi sono passato a scrivere poesie alle medie superiori e poi dalle superiori quando ho avuto questo switch ho iniziato a scrivere testi e da lì poi c'è stata tutta l'evoluzione nella musica che adesso sto facendo bellissimo quindi sì la scrittura per me è tutto sì sì io ho sempre voluto scrivere e tuttora è la cosa più importante secondo me nei pezzi che scrivo la cosa a cui do più attenzione a cui do più dettagli a cui sto più attento quindi grazie mille bellissimo complimenti è vero grazie lo apprezzo tanto e invece ci hai detto prima del singolo che deve uscire che dopo ascolto ah poi non lo ascoltate no scherzo lo ascolterete sì lo ascolterete anche io magari quando uscirà questo intervista sarà già uscito lo spero che progetti futuri hai al di là del singolo allora per allora c'è un progetto oltre il libro sì il libro ce lo teniamo magari per 10 anni o qualcosa così quando già mi sarà ritirato allora per quest'estate tra luglio e agosto potrebbe arrivare dovrebbe arrivare una conferma abbastanza importante di cui adesso non posso ancora parlare che poi ti dirò magari off camera e in base a quello si decideranno anche i progetti futuri nel senso che è insomma un'esperienza abbastanza importante che potrebbe cambiare totalmente la mia vita e quindi insomma da lì si potrebbero decidere tante cose come anche in caso negativo in caso non arrivasse questa conferma si prenderebbe un'altra direzione continueremo con il spingere pubblicare singoli perché poi mi sembra una persona molto positiva quindi non penso che ha problemi no ma a prescindere anche se io prendo sempre tutto in modo molto piatto nel senso che vivo i fallimenti e le vittorie allo stesso modo se vinco bene se perdo bene continuiamo ne parlavamo prima mentre eravamo fuori che dicevamo come potrebbe essere la nostra reazione al nostro primo disco d'oro tutti dicevano io festeggio io mi ubriaco io mi distruggo io vado avanti come prima non mi cambia niente perché per me non è quello non è quello che mi ambisco soprattutto non è un motivo per festeggiare ma è un motivo per continuare dritti io ti ringrazio perché mi hai lasciato delle vibes della Madonna qui ti ringrazio la loro ti ringrazio